Sì, anche questa delibera è una delibera che riguarda la zona che l'area verde che il Comune ha ricevuto in eredità nella zona Cerboni, tecnicamente il punto è variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto che sembra giunta regionale 8.369 del 27.11.90 inerente all'aumento di previsioni area stata, urbanistica e proprietà comunale esame richiedi delibera dalla giunta provinciale al numero 55 del 9 marzo 2011 contro deduzione in senso dell'articolo 26,6 della legge regionale 34-92 successive modificazioni e integrazione. Questa delibera, in definitiva, se lo dico per i consiglieri che erano presenti nel vecchio consiglio comunale, la donazione che ci fece a suo tempo Rambelli, una donazione finalizzata, quindi un'eredità finalizzata a un verde di quell'area. Noi l'abbiamo dovuto fare soprattutto per non incorrere nella decadenza di quell'eredità, in definitiva, questa è la sostanza. Le osservazioni che fa la giunta provinciale sono osservazioni relativamente alla considerazione di quel verde come standard. Noi diciamo, il nostro ufficio ovviamente fa una contro deduzione rispetto a queste due osservazioni, fa una contro deduzione e dice che questo standard può essere, questo verde può essere considerato uno standard. La provincia ovviamente invece dice che è un verde che non deve essere computato come standard. La definizione e la differenza è una differenza di lana caprina, nel senso che per essere considerato uno standard, la legge regionale dice che deve essere un verde fruibile perché nelle immediate vicinanze di zone abitate o di zone che sono facilmente raggiungibili anche dai mezzi pubblici. Questa zona è una zona che non è nelle immediate vicinanze di una zona abitata ma sicuramente raggiungibile da mezzi pubblici anche se, devo dire, non è poi così lontano. Io ho rappresentata in modo ovviamente molto sommario e veloce la parola al Consiglio dei punti. Grazie, il Presidente. Sì, sì, il Sindaco lo ha rappresentato in maniera sommaria ma chiaro. Io sono particolarmente spiaciuto perché ritengo che il mio Consiglio, insomma, questa diatoma che ormai ci stiamo dietro da anni, si può dire reale, però si mi ha spiegato che ci sono motivi in urgenza sia per il comportamento che per il contesto. Il concetto è sempre lo stesso o si rispettano le regole o non si rispettano. Quindi, se la Giunta Provinciale, ve lo dico senza poter dire, se magari spiego anche ai nuovi entrati che non sanno, credo che adesso, che c'è una visione diversa. Io adesso non voglio dire che ha ragione la politica, ha ragione in comune, però credo che c'è una visione diversa da sempre, non a seconda di chi è il Presidente o l'amministratore provinciale, bensì che la provincia del Comune San Unito. C'è una incommunicabilità su questi due politici banisti. Questa, adesso non la faccio conto perché il Sindaco ha spiegato che sono mani a me, ma chiaro. Cosa dice? Dette punti che quello fluide deve essere, insomma, io non so, un marco della, ho sempre detto, dell'urbanistia, quindi ne so, un quartiere qua da Sant'Antonio, diciamo, di riponere, quello che è, quindi, fluibile, accessibile. Ora, ci diceva, giustamente, il Senato Gaspari che può essere raggiungibile anche dai mezzi pubblici, ma il mezzi pubblici si riferisce sempre ad un abilimento del taxi, perché non ci sono mezzi pubblici che fanno sulla palla del forno oltre all'anno, nel risultato, oltre al il fondo dell'arco città. Quindi, considerare un verde pubblico, quella zona è una grande forza dura. Se ci sono stati degli incontri amici edificatori, se non risulti, con i tecnici, i lavoratori, i tecnici, i collegi del Comune, ancora non si risolte questa situazione, io, facendo parte del ragione del Comune, ci hanno detto che non ci sono due, lo dico, la loro non è tutta la candidata, ma io, se non ci sono mai portato avanti, chiaramente, volete portare a termine quelle che sono le volontà del decurso. Poi, dice pure da vedere, effettivamente la volontà era proprio questo, il 100%, non ha già preso i punti di riflessione, e fornire una risposta ai cittadini, però questo va fatto, secondo le re, quello non può essere considerato un verde pubblico perché non è accessibile. Non è accessibile, come il mezzo pubblico, ma non è accessibile perché una piede non si parte dal centro di Sant'Era Vecca per andare a fare il chilometro sulla parte del forno. Per questo motivo, senza volere, siamo costretti in un lavoro, mi dispiace, però non si vede bene o male, non è volentro per questa una festa, dovevamo andare con questo diritto da Cazzo. Parola a Maria Rosa Pierretto. Io, sostanzialmente, volevo spiegare questo, cioè qual è la mia posizione a riguardo a questa zona. Sostanzialmente siamo d'accordo con quanto fa osservare la provincia al nostro comune, e cioè che l'aria in questione, che è oggetto di questa variante, non possa essere utilizzata per reperire gli standard necessari all'ambiamento dei volumi di queste nostre strutture ricettive, perché è un terreno che si trova veramente troppo distante dagli alberghi. Nella delibra c'è scritto addirittura due chilometri al di là dell'autostrada, quindi francamente troviamo assurdo che si debbano reperire degli spazi verdi, cioè di standard del verde a chilometri di distanza dal luogo in cui originariamente servirebbero. Quindi questa è la nostra semplice osservazione dentro di questi primi documenti che abbiamo letto. l'altra cosa per cui sostanzialmente siamo contrari a questo cambio di destinazione è che quello che teniamo è che questa area potrebbe essere utilizzata come serbatoio di standard ulteriore per costruire, mettere altro cemento nella nostra città. Siccome noi siamo, come tutti sanno, di un piano regolatore a crescita zero, non vogliamo che questo avvenga. Grazie. Prego, consigliere per lei. Allora, io non ho avuto modo, visto l'odierno insediamento, di poter visionare la documentazione relativa a questa delibera, per cui considerato comunque la complessità dei fattori che pone in gioco noi non possiamo che per adesso astenerci e poi vedere nel proseguo una valutazione più attenta delle questioni. Grazie. Grazie. E qualche altro intervento? No, do la parola al signor per la replica. Sì, grazie Presidente. La mia sarà una replica brevissima, anche perché mi ha parlato della competenza tecnica dell'ingegnere Moridori per poter dire l'articolo 49 che cosa sostiene su questa materia. Una cosa però solo per assicurare il consigliere Piundi, il servizio pubblico che arriva fino alla Valle del Parco di Uri, Valle del Uri, come si chiama, è un servizio che esiste da diversi anni, forse a lei gli è sfuggito, però esiste diversi anni per cui non è necessario prendere i tanti, ci sono anche delle fermate lungo la strada e questo può essere verificato. Se l'ingegnere Moridori ci vuole venire a dire qual è l'oggetto del 49-49. Una cosa particolare, perché? No, no, la mia non era una battuta. Lei ha detto, la battuta era la sua, ha detto, no, ci va con il taxi. Io lo sto dicendo... Almeno le mie. Eh, almeno le mie. Eh, però sono alcuni anni che ci sono. No, le sembra normale che non lo soffrire perché il pubblico... Però questo non lo stabiliamo meglio nel lei, questo lo stabilisce la legge, che dovrebbe valere sia per me che per lei, la legge. Ecco, dopo di che le considerazioni le possiamo fare, però noi siamo, noi siamo tenuti... Io credo che l'organo tecnico del Comune abbiamo discusso molte volte. Non c'è una gerarchia per cui uno non ha conoscimento di un'altra. Noi qui cerchiamo di far valere le idee nostre, lei in provincia fa valere le idee che va conoscimento di un'altra. Prego. La differenza... Che è stata con due volte in... Praticamente la provincia ritiene che, per una serie di motivi che sono riportati anche sintetizzati nella premessa della delibera, la zona che noi abbiamo individuato come articolo 48.3 per Repubblico di quartiere, per Repubblico attrezzato di quartiere, corrispondente al nostro articolo 48.3 di norme tecniche di attuazione del piano regolatore, deve invece essere classificata come verde pubblico di interesse urbano di cui è l'articolo 49.9 delle norme tecniche di attuazione sempre del piano regolatore. La parte principale della questione è legata alla definizione di questo tipo di servizi che viene data da un articolo del decreto ministeriale del 68 che recita testamente quando si è dimostrato l'impossibilità dei tratti da bisogni comunque già soddisfatti di raggiungere la quantità di spazi su aria idonee, e stiamo parlando dei servizi per le zone di completamento, gli spazi stessi vanno sempre reperiti entro i limiti della disponibilità esistente nelle adecenze immediate, ovvero su aria accessibili, tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Noi già all'atto dell'adozione della delibera abbiamo fatto una verifica e il trasporto pubblico locale serve in questa zona con quattro corsi giornaliere che arrivano fino alla punta degli Urivi e poi tornano indietro fino all'aslo capolinea che è quello della stazione ferroviaria. Una parola al consigliere Io confermo che ci sono le quattro corse di autobus Un nuovo pubblico è chiamato in caso Arti da qui vedo i pullman che passano in zona ecco al di là della precisazione però io mi auguro sindaco che si possa trovare un terreno di confronto su queste tematiche perché ritengo che veramente queste siano più importanti e siano, come dire, fondamentali per assicurare la qualità della vita in questa città Io ho sentito prima, non è che mi dispiace in assoluto che questa città cresca però anche bisogna fare in modo che la crescita venga coniugata con la salvaguardia della qualità della vita se noi riusciamo a fare questo significa che si può riuscire a parlare di una città che può portare avanti però è importante che riesce anche al turismo e in generale in altri settori se perdiamo di vista questo obiettivo e rischiamo che poi tante altre situazioni che sono comunque collegate rischiamo di saltare quindi mi auguro che si possa aprire quando prima un colloquio e un confronto profigo su quelle che sono le tematiche che riguardano globalistica e quando riguarda il piano regolatore generale e sul quale sin da ora noi ci metteremo in maniera molto propositiva e anche disponibili al confronto ovviamente assicurando quello che rientra nel nostro compito di proposizione di cercare di fare da punto, da controllo tutto quello che avviene ma anche cercare di incidere in maniera propositiva su tutto questo aspetto che è legato alla globalistica Grazie Qualche altro intervento? Passiamo ai voti Grazie Grazie Ma le luci Alla, la luci Pignone non sarà forse Quattordici sì Sette no Un astenuto e tre non voto I sette contrari assenti, Ferrito, Gabriele, Massimiani, Piunti, Ruggeri, Tassotti. In mediatà e seguità, votiamo. Allora qui, quattordici sì, sette no, un astenuto e tre non voto. Allora, vediamo se l'è chiusa alle ore 21.30, dichiaro chiusa il primo paziente comunale. Grazie.